Elena Vigolungo, com'è stata questa partita? Com'è stato riprendersi dopo l'ultima sconfitta? Molto dura, è stato un momento difficile per noi anche l'allenamento, abbiamo avuto delle difficoltà perché l'umore era comunque basso dopo la sconfitta contro Julio ma a stasper ci siamo ripresi alla grande è stato difficile, abbiamo combattuto come sappiamo fare noi e ci siamo ripresi alla grande, è stato molto contento In settimana avete lavorato solo, immagino? Abbiamo lavorato solissimo, siamo lavorati molte, però è stato spagato Quindi lo spirito di squadra alla fine si è ritrovato? Sì assolutamente, siamo una squadra unita, diciamo, a venire le pori insieme, ci stanno la via volo I coach cosa hanno detto la settimana scorsa dopo la sconfitta? Diciamo che è stata una sconfitta amara, essendo che comunque noi eravamo in decca, l'avevano tutti Quindi può essere che senza volerlo abbiamo valutato l'avversario e questo comunque è stato un colpo basso per tutti Anche per l'allenatore, comunque ci aveva detto di fare attenzione nonostante avessero 0 punti È successo, però stasera ci siamo ripresi alla grande Perfetto e vi auguro una buona continuazione, continuate così ragazze! Grazie mille!